In che modo scrivere un curriculum vite? Come approcciarsi ad un colloquio di lavoro? Per chi non mi conoscesse, io sono Oscar Aceti e nel mio canale di YouTube parlo di digital, comunicazione e marketing applicato al mondo sportivo. Se ancora non lo sei, beh, devi iscriverti. Per rispondere a queste domande oggi non sono da solo ma sono in compagnia di Giorgio Gabrielli, consulente di direzione aziendale, 20 anni di esperienza a Mondadori Pubblicità, 3 anni in Microsoft Italia e 3 anni in RCS Pubblicità. E tra tutte le altre cose il mio professore alla IUM di Milano con la materia Managing Yourself, strategie e tecniche per il successo professionale. Innanzitutto benvenuto professore e grazie per la sua disponibilità e il suo tempo. E la prima domanda con cui un po' inizio tutte le interviste è semplicemente racconta un po' chi è, che cosa fa nella sua vita e qual è il suo percorso formativo e professionale. Allora, prima di tutto ben trovato Oscar, buongiorno. Mi fa molto piacere stare con te, eri uno studente, sei stato, nell'ultimo corso uno studente molto attivo e quindi anche partecipativo. E quindi mi fa molto piacere stare con te oggi e aderire alla tua richiesta. E ti ringrazio anche per questa fiducia che mi dai. Mi chiedi della mia vita professionale. Cosa faccio oggi? L'hai detto tu, sono un consulente di direzione aziendale in ambito proprio organizzativo. e vengo da un'esperienza pluriennale, ho fatto tante cose che incredibilmente non sono figlie di curriculum vitae, di quello di cui proprio parleremo oggi e sul quale magari calcherò un po' la mano, in maniera magari un po', come dire, inaspettata sul tema del curriculum. Ho fatto cinque anni di vita militare nell'esercito italiano, come ufficiale dell'esercito, ero arrivato in servizio permanente effettivo e poi ho passato vent'anni nel gruppo Fininvest, dove sono stato sia in Publitalia sia in Mondadori Pubblicità, come hai ricordato tu. Ho fatto tre anni fantastici in Microsoft, tre anni in RCS e tre anni ancora un po' qualcosa oggi nel gruppo Sator, dove sono stato amministratore delegato di una casa editrice e sono ancora oggi consigliere d'amministrazione indipendente in una quotata in borsa che è Edes, in un gruppo bancario che è Arepo Banca Profilo e in un'app di digital payment che è Tinaba. In più, proprio faccio insegno allo IULM, ormai da sette anni, in questo momento tre materie, che appunto una è Managing Yourself, strategie tecniche per il successo professionale, Organizational Behavior and Neuromanagement alla Magistrale di Strategic Communication e Psicologia delle relazioni interpersonali, organizzative e commerciali, comunicazione di impresa e relazioni pubbliche. Questa è un po' la mia storia e come hai visto è un po' articolata ed è articolata, dicevo prima che non è figlia di Curriculum Vite proprio perché ho seguito anche molto quello che era il mio istinto, quello che erano le mie passioni, quello che erano i... e poi un po' quello che la vita ti offre durante il cammino. Ho quasi 58 anni, sono romano ma vivo a Milano da ormai 27 anni. Quindi già mi sta ribaltando il tema dell'intervista, cioè già l'intervista cade in sé. Certo. Guardate gli scherzi. Come ho detto nell'introduzione, oggi parliamo di CV e colloquio di lavoro. E qualche giorno fa, nelle mie Instagram Stories, ho chiesto a chi volesse di suggerire delle domande. Alcune domande sono arrivate dai miei compagni, quindi dai suoi studenti. Quindi ha una responsabilità ulteriore nel dare la risposta. Perché poi, vabbè, questa intervista verrà spammata sul gruppo dell'università e quindi ha il doppio della responsabilità. Ho scelto quelle un po' più interessanti e quelle migliori, sono una decina, quindi magari risposte un pochino più dirette e brevi e andiamo. Partiamo con quelle tra il Curriculum Vite. La prima domanda è, quanto deve essere lungo un CV e se è meglio utilizzare un modello standard o invece uno libero, diciamo. Allora, partiamo da queste cose tecniche che so che voi ragazzi, ma giustamente preoccupavano, hanno sempre preoccupato anche me nella vita e tutti quelli come me che hanno fatto un percorso. Il come costruire un curriculum è sempre stato un problema. Quello che essenzialmente conta nel curriculum, secondo il mio modestissimo parere, sai cos'è Oscar? È veramente la sostanza e cioè quello che veramente hai fatto e non quello che hai ricoperto. Cosa intendo con questo? Quello che conta è il tuo track record. Scrivere è con un'ottima capacità di sintesi. Quello che realmente ognuno di noi è riuscito a compiere durante il percorso professionale nel quale è stato o presso un'organizzazione o magari ha intrapreso una determinata attività anche a livello personale, perché si può fare un curriculum anche in qualità di imprenditori, e raccontare un po' la sua storia. Tu vieni da un'università di marketing, consumo e comunicazione, dove lo storytelling, dove la capacità di raccontare per esempio una marca è fondamentale, noi dobbiamo fare un po' la stessa cosa su noi stessi. E quindi raccontare in questo breve, perché deve essere breve, riassunto di sé quali sono le nostre principali qualità, ma come attraverso proprio un racconto che certifichi la nostra capacità di risolvere i problemi, di affrontare i problemi complessi, di avere un certo tipo di pensiero critico, di raccontarlo in maniera da dimostrare anche le nostre capacità comunicative, in generale questo. Poi mi chiedi, mi sembra che me l'hai già chiesto, il tema del formato, ma deve essere che il tipo di formato deve avere, che cosa... il formato secondo me tendenzialmente è sempre lo stesso, quello che bene o male vediamo da tutte le parti, a partire dal famoso formato europeo per arrivare a dei formati un pochino più personalizzati, ma sempre di un A4 parliamo, ed è sempre calibrato in funzione della lunghezza, delle... cioè la lunghezza, la numerosità delle esperienze vissute, no? Deve essere lungo tanto quanto sono le esperienze, tanto quanto necessario per raccontare come ognuno di noi si è comportato e che risultati ha portato e come è riuscito a ottenere quei risultati nel periodo nel quale ha lavorato, studiato, intrapreso. Tendenzialmente è questo, quindi non c'è una risposta standard sotto questo aspetto. Piuttosto c'è un altro aspetto che secondo me non è secondario ed è l'aspetto dell'accompagnamento, cioè la personalizzazione dell'invio a chi ci interessa raggiungere. Quello è un punto sul quale bisogna anche altrettanto tenere tanta considerazione e quindi essere, come dire, proprio puntuali e dedicati alla persona alla quale scriviamo, motivando il perché stiamo scrivendo proprio a lei, perché ci interessa l'azienda nella quale lavora, perché vogliamo entrare anche noi in quell'organizzazione, quali sono, cosa ci spinge ad andare lì. Ecco, questa parte secondo me è importante tanto quanto la parte del curriculum. Collegato a quello che dice lei, il curriculum deve rappresentare la nostra persona. se invece una persona ha fatto tanti lavori in nero, vanno inserite o non vanno inserite nel CV? Allora, questa è una domanda un po' tricky, perché il tema è tricky. In che senso? Il lavoro in nero è un lavoro che è illegale, sia dalla parte del datore del lavoro, sia da parte della persona che presta l'opera, perché evade ovviamente tutta una parte contributiva. C'è un'evoluzione contributiva da parte di tutti e due, che non è irrilevante, ma proprio dal punto di vista legale non lo è. Tutta una parte assicurativa, insomma, sono temi molto delicati. Quindi mi verrebbe da dire da uomo anche delle istituzioni, te l'ho raccontato prima, il fatto di aver passato cinque anni di vita nell'esercito italiano, tendenzialmente direi di no. Però è anche vero che la situazione è talmente complicata dal punto di vista del lavoro che può essere che qualche nostro collega studente abbia fatto dei lavoretti, diciamo così, in nero, no? Fair enough, direbbero gli anglofoni, no? Però, insomma, tendenzialmente non è... No, no, non è, ecco. Non lo vivo e non lo vedo come... Piuttosto ti rispondo in un altro modo, perché poi molto spesso questi lavori in nero sono lavori che nel percepito nostro di chi scrive il CV vengono ritenuti a una scala inferiore rispetto all'ambizione che noi abbiamo, no? Magari abbiamo fatto cose che ci entrano poco con l'attività che vogliamo andare a svolgere. Ecco, di questo io mi preoccuperei poco, nel senso che l'importante è dimostrare di aver fatto, l'importante è dimostrare di fare, l'importante è dimostrare che non stiamo lì ad attendere, l'importante è dimostrare che ci preoccupiamo di noi stessi, che la vita la sappiamo affrontare e che ci diamo da fare comunque pur di raggiungere i nostri obiettivi, no? Non siamo seduti nella stanzetta a fare poco e niente. Siamo persone attive, ecco, questo dimostrare l'essere attivi, dimostrare di essere sempre on track, no? Come quelli, per esempio, ci sono dei colleghi in università che, degli studenti, che ci mettono magari più tempo del previsto perché vogliono avere il bel voto, perché, attenzione, perché molte aziende guardano, e organizzazioni guardano, a proposito del track record di cui ti facevo riferimento prima, che non è un track record solo qualitativo dal punto di vista del 110 e lode, no? O dell'eccellenza, ma anche come, come l'hai fatto, dicevo prima. Il come l'hai fatto ha all'interno di sé anche quanto tempo ci hai messo. Cioè, quanto ci metti tu a portare a termine un task? Sei uno lento, sei uno che sta lì a rimuginarsi sopra, sei un temporeggiatore, o sei uno che affronta il problema, tenta di risolverlo, trova la soluzione e raggiunge l'obiettivo. Questo è poi quello che le aziende cercano, persone che risolvono problemi, che siano in grado di portare innovazione, ne abbiamo parlato tanto insieme, Oscar, e questo è realmente quello che si cerca. Quindi meglio uno veloce, meglio uno che si dà da fare, piuttosto uno che sta lì in attesa, in panciolle, a casa dei genitori. Bene. Alla prossima domanda in parte ha già risposto, cioè sport, hobby, attività extra, va ammesse sì o no? È praticamente più un sì. Allora la seconda domanda è se sì, quando va ammesse gli sport, le attività e gli hobby? Allora, lo sport, le attività e le hobby, sì, in parte è vero che posso aver risposto, però non nello specifico. Queste attività, chiamiamole collaterali, danno soprattutto se fatte bene nella nostra vita adolescenziale, infantile, adolescenziale, e poi anche universitaria, non dico necessariamente a livello agonistico, ma quasi, e quindi con passione, con costanza, con determinati risultati, contribuiscono nella psicologia del percepito durante un colloquio, contribuiscono a far sì che l'altro, che tecnicamente viene definito hiring manager, sia, ci percepisca come persone, come dicevo prima, quindi capaci, costanti, perseveranti, appassionate, anche nella lunga durata, cioè non persone che cambiano velocemente, quelli che hanno fatto per esempio 30 sport, o hanno 30 hobby, o cambiano lavoro frequentemente, sono viste con un occhio di, come dire, c'è un warning dietro l'iring manager, ma perché questo cambia così facilmente? Perché c'è questa volibilità nella sua modalità comportamentale, perché vola di palo in frasca, che non è solo un tema di fedeltà e di loyalty futura, ma è anche un tema di quello che dicevo prima, di prendersi un task e di portarlo a termine, nel momento in cui entri in un'azienda ti verrà affidato un compito e quel compito tu lo devi portare a termine perché l'azienda ha investito su di te e quindi l'azienda ti sceglierà in funzione anche della tua capacità di resistenza, di resilienza, di costanza e anche, lasciami dire, di un senso etico che comunque viene valutato. Mi dicevi dove va messo tendenzialmente in fondo come spesso si fa, nel senso che non è predominante, a meno che non sei un atleta di rilevanza nazionale, allora ha un senso dargli anche una rilevanza nella lettera di accompagnamento eccetera, eccetera, eccetera. Ultime, diciamo, due domande che sono molto diciamo rapide e sempre si ricollegano un po' al tecnicismo del CV, cioè fotografia sia o no e perché e se il curriculum va scritto in italiano o in inglese. Allora, fotografia sì e no, ci sono delle attenzioni alle culture e alle legalità country per country. Per esempio, nel mondo anglo, nel mondo degli Stati Uniti, l'employer e quindi l'hiring manager non deve curarsi dell'età, del sesso, dell'orientamento di qualsiasi tipo, ovviamente dell'aspetto fisico, di tutte queste cose qua e quindi sono molto asettici e devono essere asettici anche per legge rispetto alla scelta che fanno. Questa cosa dal punto di vista invece etico sta arrivando un po' anche in Italia, non dal punto di vista legale, ma sta arrivando anche in Italia. In Italia è molto forte il dibattito di gender, no? Altrove sono molti e molto forte non solo il dibattito di gender, ma anche come dicevo prima razziale, religioso, orientamento sessuale, eccetera, eccetera, eccetera. Certo è che se vogliamo mettere, se vogliamo metterci la faccia, perché di quello stiamo parlando, la foto deve essere una foto, il consiglio che mi sento di dare, deve essere una foto professionale, cosa intendo per foto professionale, non quella che si mette sul, necessariamente quella che si mette sulla tessera, quella che si fa nei chioschetti di fototessere alle stazioni, eccetera, però deve essere una foto, come dire, sì, istituzionale, con una certa eleganza, non con determinate pose o atteggiamenti, eccetera, deve essere io nel mondo del lavoro, cioè dobbiamo immaginarci nel mondo del lavoro e come secondo noi dovremmo rappresentare noi stessi in quell'ambiente. Consiglio di mettere o non consiglio di mettere, ma dipende, nel senso che ovvio che se la metti e prima parlavo, usavo questo termine sempre angolo che è tricky, se la metti provochi immediatamente qualcosa nel chi vede il tuo curriculum. Cosa vuol dire quel qualcosa? È il famoso effetto alone. Noi, lo sai, in parte ne abbiamo parlato durante le lezioni, ragioniamo in termini di euristiche, abbiamo dei bias cognitivi, uno di questi è proprio l'effetto alone e quindi arriviamo a conclusioni sulla persona che abbiamo di fronte prima ancora che questa persona abbia aperto bocca. È una foto che già ci dice rispetto ai bias della disponibilità, ai vari bias che adesso non è il tema per parlarne, però già ci mette la persona che abbiamo davanti all'interno di un imbuto e lo clasterizza a seconda della mia memoria e in base ai miei stati d'animo io inserisco una persona in un posto positivo e in un posto negativo della mia memoria, non molto semplificata, ma il rischio c'è, ecco, il rischio c'è, quindi è un rischio che ognuno di noi si può più o meno assumere, fermo restando che le foto di ognuno di noi, ormai tutti, sono ovunque, per cui con il tema dei social ma anche il tema dei motori di ricerca se abbiamo rilasciato interviste, se abbiamo fatto cose, viene fuori, viene fuori la nostra foto, quindi ormai sai metterla, non metterla, io comunque posso volendo andare a vedere sui social chi sei, ti cerco e ti trovo. Ok. Ah, mi hai detto italiano e inglese? Quando? Both. Tutte e due. Ok. Perché? Perché può essere adeguato mandare un curriculum in inglese se non richiesto, ma può essere adeguato mandarlo per esempio a una multinazionale americana o inglese e il rischio ormai è che il curriculum in inglese te lo chiedano, quindi tutti, quindi anche per vedere le tue capacità di conoscenza della lingua. perfetto. Quindi abbiamo il CV il massimo che siamo riusciti a fare e dobbiamo andare a un colloquio. Prima del colloquio come prepararsi oltre al CV ovviamente? Ah, che bella domanda. Questo è il momento clou. Posso fare un passo indietro un attimo? Ovviamente. attenzione. In questo momento, soprattutto in questo momento di discontinuità con questa pandemia, ovviamente le aziende stanno aspettando che il governo che probabilmente dilaziona ancora il blocco dei licenziamenti, ma che il governo prima o poi liberi le aziende per poter procedere a ulteriori, ai primi licenziamenti. Ovviamente questo è una cosa che socialmente sarà dirompente, ma questi licenziamenti non apriranno necessariamente la porta a nuove assunzioni. Le assunzioni saranno molto poche e saranno ovviamente mirate a quelli che le aziende riterranno i migliori talenti sul mercato. Allora, quello che ho sempre consigliato a voi quest'anno eravate tanti eravate 150 anzi di più 170 quello che ho consigliato sempre che continuo a consigliare e uso questo mezzo grazie a te per dirlo è quello di andarselo a prendere un posto di lavoro. Allora se io voglio andare a lavorare in quell'azienda se io voglio andare a lavorare in quell'industria se io voglio andare a lavorare in quel mondo devo fare di tutto per poterci riuscire e allora spesso vi ho detto go and get it non basta l'invio di un curriculum non sarà il curriculum fatto bene a farvi emergere perché arrivano centinaia anzi direi migliaia di curriculum alle aziende sempre non in questo periodo sempre e come dicevamo prima i curricula sono tutti bene o male simili ma non sono solo simili dal punto di vista della forma perché tu ti sei messo molto mi hai fatto delle domande sulla forma ma il tema è anche sulla sostanza sono simili perché ognuno di noi ha fatto quel tipo di esperienza usciamo dall'università qualcuno di noi ha fatto più o meno sport visto che me l'hai chiesto più o meno lavoretti più o meno stage punto quindi partiamo tutti bene o male uguale bene o male i magistrali quelli di lavorare magistrale hanno fatto la laurea magistrale e quindi sono equiparabili tutti quanti sì si può scremare in base alla laurea di un'università rispetto a un'altra ma fino lì perché poi le università per esempio lombarde devo dire la verità a parte che sono abbastanza divise in area tematica per esempio noi siamo diversi dalle altre per il fatto che abbiamo proprio una focalizzazione sul mondo della comunicazione del marketing delle pubbliche relazioni delle lingue delle arti cioè abbiamo delle specializzazioni che ci distinguono dagli altri ma anche le altre università di Milano e della Lombardia hanno delle loro specificità e comunque sono università di eccellenza le università lombarde quindi veniamo fuori tutti quanti da università importanti quindi vedi partiamo tutti allo stesso modo allora quel povero hiring manager come fa a scremare dobbiamo farci conoscere dobbiamo trovare il modo affinché l'azienda nella quale vogliamo andare a lavorare o quell'industria nella quale vogliamo andare a lavorare ci conosca allora spesso parlavo con voi di marketing indiretto cioè di spingere molto con le aziende di telefonare di prendere appuntamento di andare a parlare di andare addirittura nell'azienda di spingere molto io conosco questa non è la sede per fare nomi ma conosco personalmente ho lavorato personalmente con persone che quando hanno voluto entrare in un grande gruppo lo hanno fatto in questo modo cioè sono andate direttamente dal grande imprenditore a dire prendimi perché io ho delle qualità allora l'invito che faccio è di emergere rispetto a tutti gli altri studenti e di farsi notare di farsi conoscere di spingere sotto questo aspetto perché i curricula sono tutti uguali in forma e sostanza e non sono quelli che faranno la differenza la differenza la può fare una lettera d'accompagnamento la può fare una telefonata la può fare una visita la può fare una come dire una pressione un po' da venditore del brand che ognuno di noi rappresenta cioè se stesso qual era il punto che volevi dire questo era il primo la preparazione ecco quindi il momento in cui noi riusciamo ad avere un colloquio non riteniamoci fortunati perché l'abbiamo avuto e basta no lì parte la sfida quella è la non siamo neanche arrivati al campo base dell'Everest siamo ancora a Katamandù dobbiamo ancora fare tutto il percorso per arrivarci e la preparazione alla visita è fondamentale lo è sempre stato da un punto di vista del mondo dei venditori tutto il mondo sales il bravo venditore si prepara prima della visita si prepara sull'interlocutore si prepara sull'azienda si prepara sui prodotti e stessa cosa ognuno di noi deve fare nel momento in cui va dall'iring manager al quale dovrà proporre i suoi contributi e quindi su cosa ci dobbiamo preparare innanzitutto su noi stessi su noi stessi dal punto di vista del conoscersi conosci te stesso perché le domande arriveranno mi dici per favore tuoi cinque qualità o tuoi cinque difetti dobbiamo saper rispondere la domanda è banale lo sai perché ve l'ho sempre detto ma è una domanda insidiosa perché noi dobbiamo saper rispondere a domande del genere cioè noi dobbiamo dare l'idea di padronanza di noi stessi quando siamo con qualcuno l'altro deve riconoscere saldezza in noi di padronanza di noi stessi di conoscenza di sapere il fatto nostro ovviamente dobbiamo avere degli obiettivi e dobbiamo essere in grado di declinarli in maniera concreta e misurabile non dire io voglio fare l'amministratore delegato punto ma argomentare come e quando io riuscirò ad arrivare nella scala che mi porterà al successo cioè dove voglio arrivare io quindi molto ben preparati su noi stessi senza spocchia ma molto ben preparati su noi stessi e ovviamente cosa molto più importante o altrettanto importante preparati sull'azienda preparati sulla persona che ci sta intervistando si va a cercare chi è chi non è cosa fa cosa ha fatto nella vita per capire anche il suo come dire la tipologia psicologica della persona che abbiamo di fronte e la sua storia e capire quindi poi l'azienda nella quale vogliamo entrare in che settore è quali sono i suoi concorrenti quali sono i suoi prodotti quali sono le sue quote di mercato com'è la sua organizzazione da chi è composta la sua organizzazione dove vado a lavorare quindi chi mi sta chiamando a quale dipartimento appartiene cosa fanno in quel dipartimento quali possono essere i problemi a quel dipartimento che soluzioni posso offrire che innovazione posso portare a quell'azienda ecco queste sono tutte cose che sto dicendo una dopo l'altra con grande velocità ma che in un colloquio se noi siamo in grado di raccontare fanno la differenza la preparazione fa la differenza conoscere i risultati di bilancio dell'azienda conoscere le sue quote di mercato nei vari prodotti che l'azienda propone nei vari mercati nei quali le aziende operano noi dobbiamo essere bravissime sotto questo noi dobbiamo conoscere tutto perché non dovremmo conoscere un'azienda nella quale noi aspiriamo tanto ad entrare ci sono tantissimi ragazzi che arrivano impreparati sotto questo aspetto hanno la fascinazione magari del nome dell'azienda quanto sarebbe figo andare a lavorare lì però guarda caso non si preparano invece se ti interessa davvero se tu vuoi andare a lavorare lì probabilmente dovresti avere quella curiosità necessaria che ti fa colmare il gap cognitivo su quel determinato su quella industry su quel mercato sull'arena competitiva che c'è sui problemi che ci possono essere e sulle soluzioni che loro forse stanno adottando vedere un po' anche la storia dell'azienda la storia di quei prodotti dove vengono come stanno andando com'è il periodo come se fossimo già dentro e come se fossimo addirittura dei manager come dicevo prima però attenzione mai con la spocchia ma sempre con una voglia di come dire imparare introdurre portare l'infa nuova ci devono vivere così e ci devono vivere anche molto preparati molto affidabili e pronti a trovare soluzioni bene domando un'altra domanda un po' trichi come dice lei andiamo ci conquistiamo il colloquio facciamo un bel colloquio abbiamo la grinta la voglia ci facciamo vedere però durante il colloquio ci accorgiamo che la posizione lavorativa non si attiene alle nostre caratteristiche ai nostri valori o comunque l'azienda non è come ci aspettavamo e decidiamo di rifiutare o comunque di cambiare strada come fare in questo caso? no allora innanzitutto se è vero quello che hai detto è un gran colpo di fortuna perché avere una tale coscienza di sé è un momento testimonia la nostra maturità perché se un posto veramente noi capiamo che non fa per noi potrebbe essere la nostra salvezza perché spesso cioè spesso no però nell'arco di una vita lavorativa può capitare di infilarsi in situazioni che non vanno bene per noi non perché sono necessariamente negative di per sé esistono tante belle aziende che però magari per cultura organizzativa propria per come dire tipologia di manager che ci sono all'interno non sono adatte a noi non vuol dire che vanno male loro o che andiamo male noi fa parte delle nostre disposizioni verso il mondo della nostra costituzione verso lo riconosciamo e evitiamo di andare quando dirlo beh subito cioè non è voglio dire non è un tanto voglio dire per quello per l'esperienza che ho io con i ragazzi che io incontro in università tutti veramente con una grandissima educazione ho sempre trovato persone di grande come dire anche una buona struttura morale eccetera uno lo può dire tranquillamente non fa per me non mi rendo conto adesso che eccetera eccetera tanto sappiamo bene che se poi invece accettassimo non avremmo vita facile all'interno di quell'organizzazione poi tu mi potresti dire non so se me lo dirai ma tu mi potresti dire ma insomma preso proprio perché quello che raccontavi prima è una situazione talmente delicata che se riesco a trovare un posto di lavoro ci vado allora io ti rispondo ancora un'altra volta fair enough perché poi di necessità virtù dobbiamo fare in questo momento però lì ci dobbiamo inghiottire la pillola amara e comunque dare il nostro meglio cioè non è che sì vabbè lo prendo come tappabuchi e poi no intanto ci facciamo un'esperienza anche se non è il migliore dei mondi possibili mi faccio la mia esperienza tento di portarla a termine per come il meglio proprio per prepararmi al prossimo treno che passa è poter raccontare che per esempio malgrado fosse una situazione per me complessa sono riuscito a fare A, B, C e sono riuscito a farli in questo modo in questo modo in questo modo benissimo siamo arrivati all'ultima domanda che va un po' come il riassunto generale di tutta l'intervista tre consigli che si sente dare a una persona o comunque a uno studente che si sta approcciando per la prima volta o quasi al mondo del lavoro con questa domanda mi spiazzi perché poi riuscire a essere sintetici con tre cose è sempre molto molto difficile però la sintesi è una quantità una sintesi che ognuno di noi deve essere in grado di fare allora un po' lo sai come la penso il primo consiglio è veramente 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 ha un sapore filosofico ma è veramente conoscere se stessi cosa vuol dire conoscere se stessi è cogliere le nostre le nostre tendenze come dicevo prima le nostre disposizioni la nostra costituzione non le nostre passioni è un po' troppo aleatorio le nostre passioni è un po' troppo simile alla felicità la passione trovare la passione rimane un po' troppo è poco concreto perché sono qui ora nel mondo e come posso contribuire quali sono le mie reali qualità quali sono le mie reali tendenze in cosa riesco io guardare un pochino prendere un elicottero andare dall'alto guardarci dall'alto nel mondo tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi e capire e tentare di capire veramente di che pasta siamo e quindi che stoffa abbiamo e che direzione possiamo possiamo prendere la consapevolezza dicono i i coach fare in modo che il coach abbia consapevolezza di una serie di cose che lui pone dei temi che lui che lui pone prima di tutto di se stesso la domanda è che consapevolezza hai di te questa è la domanda primo punto secondo è avere quindi una volta che obiettivi chiari abbiamo parlato tanto degli obiettivi smart durante le nostre lezioni ecco l'obiettivo deve essere come dicevo prima concreto misurabile raggiungibile deve avere anche dei tempi deve essere rilevante per me allora devo darmi degli obiettivi molto 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 chiari definiti il prima possibile so che a quell'età è difficile avere già chiaro il futuro ma quantomeno iniziare poi uno può correggere la mira nel cammino ma individuare chiaramente dopo aver capito le nostre disposizioni costituzione eccetera tessuto capire a questo punto dove andare individuarlo chiaramente perché poi individuato l'obiettivo chiaramente che proprio lo sentiamo ce ne rendiamo conto fisicamente proprio lo avvertiamo quando abbiamo il famoso insight noi noi avvertiamo che abbiamo scoperto il mondo davanti a noi la luce è chiara perché questo ci consente anche di essere perseveranti se è vero che è quella roba lì allora la raggiungerò anche negli errori che commetterò andrò avanti perché credo in questa cosa per fare tutto questo se devo sintetizzare un ultimo consiglio è essere il più possibile aderenti a se stessi coerenti si parla di autenticity quindi di autenticità ecco non andare per imitazioni non andare perché gli altri lo percepiscono quando agiamo in nome per conto di un idolo gli altri lo percepiscono anche in un colloquio anche persone magari poco raffinate quelle magari più cognitive possiamo avere dei colloqui per esempio con persone molto analitiche le persone analitiche non hanno una enorme sensibilità psicologica emotiva empatica sono molto legate ai numeri molto legate alla parte magari strategica però il loro il loro lato nascosto il loro lato inconscio percepirà inevitabilmente come come siamo se stiamo agendo il nome per conto di qualcun altro il nome per conto nostro quindi essenzialmente sono queste comportarci nella nostra originalità perché se è vero che noi dobbiamo portare innovazione saremo in grado di portare innovazione solo se saremo noi stessi fino in fondo quella sarà l'innovazione la nostra capacità di di portare noi stessi l'innovazione è noi perché noi siamo nuovi nel mondo del lavoro e perché noi siamo unici e quindi staccarsi un po' dagli stereotipi e portare il più possibile piacerà non piacerà arriverà qualcuno al quale piaceremo perché sarà quella metà che non potremo piacere a tutti è praticamente impossibile proprio da un punto di vista addirittura ormai neuroscientifico noi non piaciamo a tutti per una questione di chimica del cervello e quindi ci sarà qualcuno sempre diverso da noi probabilmente con un tipo psicologico opposto al nostro e allora ci sarà una difficoltà di comprensione l'un l'altro pazienza incontreremo qualcuno che andrà bene per noi ovviamente allora professore grazie per la disponibilità del suo tempo soprattutto per le risposte di valore non mi resta che chiedervi di mettere un mi piace condividere il video se vi è piaciuto e commentate qui sotto se anche voi avete alcuna esperienza tema colloquio tema civis che vi hanno convolto e che volete condividere con tutti noi grazie professore se vuole dire le ultime parole l'ultimo saluto ma le ultime parole io preferirei che fossero le tue sei il padrone del canale le ultimissime le dico io le ultime parole che posso dire è grazie a te di aver pensato a me per un canale che in realtà parla d'altro che poi non è vero perché tu parli anche di sport qua per cui quando parliamo di sport parliamo di obiettivi parliamo di di metterci dentro tanto ognuno di noi e quindi è un po' è un po' questa 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 cosa qua allora mi è venuta in mente una cosa invece da dire sentiamo di 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 non lasciare come dicevo prima il curriculum e non fare solo affidamento su noi stessi quello che dicevo prima del going edit di spingere eccetera ma di creare il più possibile relazioni oggi è difficile ma finirà questa cosa ma relazioni fisiche proprio di conoscenza del nel mondo nella industry nella quale noi intendiamo lavorare questo sì perché ci si muoverà nel mondo del lavoro in funzione delle relazioni non in funzione del curriculum quando dicevo io non sono figlio di curricula è perché tutti i cambiamenti di lavoro che ho fatto non li ho fatti perché ho mandato un curriculum li ho fatti con relazioni che ho creato nel tempo e dove le persone mi hanno sempre chiamato creando relazioni ma questo poi avviene dobbiamo crearlo noi questo è importante quindi grazie di avermi chiesto perché mi è venuto in mente questo aspetto che è rilevante sul quale ci sarebbe un'altra ora da parlare ma il tema della relazione non social punto non deve essere una relazione social io divento mi linko a te su LinkedIn allora tu mi conosci allora tu mi prenderai ma proprio no devi creare un trust tra te e l'altro in maniera tale che quell'altro un domani si ricordi di te e ti possa proporre a qualcun altro qualora qualcuno dice ma tu in quel mondo lì conosci qualcuno lui fa il nome di Oscar allora grazie non mi resta che a voi a casa invitarvi a iscrivervi al mio canale di Google non perdi le prossime interviste i prossimi video non mi resta che avutarvi una buona giornata grazie e al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.